e su variabili e cambi che non sono usuali oppure lo sono ma che vanno approfonditi in modo specifico, faccio un esempio su tutte, ad esempio anche il mercato azionario, quindi andare a lavorare anche su quegli aspetti del mercato azionario e non solamente magari trading sul Forex o sui CFD per quelli che vengono riconosciuti come tradizionali, ma anche il mercato azionario. Ecco perché quindi diventa importante anche una partnership, noi abbiamo più partnership come scuola di formazione ma una di queste sicuramente è quella con Sto, perché Sto al suo interno, poi dopo come avremo modo di capire meglio, al suo interno ha anche l'offerta legata al mercato azionario, quindi ecco che questa è una delle principali ragioni per cui questa sera poi avremo anche la possibilità di conoscere l'offerta che fa il broker Sto, diciamo un'offerta particolare legata anche alla partnership appunto con PTE 2.0. Io per questa fase introduttiva direi che possiamo chiuderla qui, io passerei la parola a un ospite perché ovviamente abbiamo voluto anche che i nostri amici di Sto potessero anche loro presentarsi e dire qualcosa e darvi il loro benvenuto. Quindi io a questo punto passo la parola a Marco Pianezza che è il responsabile di Sto e lascio a lui la parola e il suo benvenuto anche da parte sua. Grazie, ci sentiamo più tardi. Sì, grazie mille. Buonasera, mi sentite? Bene, benissimo Marco. Marco ti sentiamo, scusa, ti ho assegnato il ruolo di relatore. Ok, quindi posso... Sì, dovrebbe... Prendere lo schermo. Sì, esatto. Prendere lo schermo. Esatto, sì, lo vediamo. Ok, innanzitutto buonasera a tutti, mi presento, sono Marco Pianezza, responsabile per l'ufficio italiano di Sto, Sto è un broker nato in realtà in Italia tanti anni fa, che poi avuto la possibilità di sviluppare diverse sedi all'estero. Ma che ha mantenuto l'ufficio italiano, quindi l'ufficio di Milano, dal quale vi sto chiamando, come sede principale per quanto riguarda appunto la gestione del mercato italiano. Siamo quindi un broker regolamentato FCA, SISEC e siamo iscritti CONSOB e quindi grazie a questa possibilità offriamo come particolarità, come opzione, come alternativa al regime dichiarativo anche il regime amministrato, che diciamo che è una delle nostre caratteristiche più particolari. Detto questo, ovviamente come offerta, questo che sta girando è il nostro sito, non so se chi di voi ancora non ci conosce, comunque stofs.com.it, quindi pagina in italiano. Come offerta offriamo la piattaforma di trading online, ovviamente discrezionale, la MetaTrader 4 per il momento stiamo per implementare anche la MetaTrader 5 che in realtà offrivamo anni fa, ma poi non ha avuto riscontrato grande successo, quindi siamo in attesa di riproporla anche e soprattutto per la parte azionaria, dopo vi spiegherò meglio perché. Quindi abbiamo la MetaTrader 4 e una piattaforma nostra di proprietà, IFX Fast, che è una piattaforma completamente diversa, un po' più professionale da alcuni punti di vista, dove però tendenzialmente girano solamente il mercato FX e il mercato degli indici. Dico solamente perché all'interno della nostra offerta, intanto ci sono diverse tipologie di conto che si possono vedere da questa pagina semplice e riepiliegolativa di quelle che sono le nostre tipologie di conto, tipologie di conto che seguono decisamente il deposito iniziale, quindi abbiamo un conto classic, un conto premium, un conto pro e un conto VIP per quanto riguarda la piattaforma MetaTrader e come dicevo la IFX Fast. Le nostre tipologie, diverse tipologie di conto trading, come detto, seguono il deposito iniziale e vanno via via a migliorare le condizioni di trading. Il nostro conto classic è un conto standard, tanto per intenderci, è un conto senza commissioni sul mercato valutario, ma con lo spread, questo è il caso dell'euro dollaro, un po' più largo, quindi siamo in 1,6 ovviamente variabile. Dal conto premium in su fino ad arrivare al conto VIP, le condizioni vanno a migliorare in termini di spread, che rimane variabile, però diciamo che questo è sempre il target sull'euro dollaro, ovviamente in più vengono aggiunte le commissioni sul mercato valutario, che però anch'esse vanno a migliorare sostanzialmente del conto in questione. Quindi si parte da 5 dollari per lotto fino addirittura a soli 3 dollari per lotto tradatto sul mercato valutario. Questo perché? Perché ovviamente un conto da 2.000, insomma range tra i 2, 3, 4.000 euro, ha meno possibilità, sostanzialmente anzi pochissime se non zero in questo momento con la nuova leve, con le nuove leve sul valutario, di aprire un lotto, quindi sostanzialmente le commissioni non andranno a incidere poi così tanto, onestamente parlando, in termini di volumi, cosa che invece può succedere quando il conto inizia ad essere da 10, 20, 30, 50.000. Quindi in questo caso la commissione incide decisamente più e noi l'andiamo ad abbassare. Tutti i nostri conti dal Classic al VIP hanno la possibilità, scusate, dal Classic al Pro hanno la possibilità di avere tutte le nostre asset class, come dicevo prima la nostra piattaforma metatrader è completa anche sulla parte azionaria e sulla parte obbligazionaria, onestamente parlando non è il nostro miglior prodotto, però comunque rientra per completare diciamo l'avvio su tutti i mercati, quindi ovviamente metalli, petrolio, azioni indici e obbligazionari. La parte invece di materie prime l'abbiamo tolta dall'offerta standard principale per una questione sia di costi che di volatilità, eventualmente se ci fosse qualche persona interessata possiamo anche dedicare un conto dedicato appunto sulle materie prime. L'unica limitazione che ha il conto VIP rispetto ai tre precedenti è il fatto di non poter aprire i micro lotti, quindi per intenderci il minimo è 0,10 per un'operatività su condotti di 50.000 euro in su, direi che insomma è abbastanza ragionevole, mentre sostanzialmente sotto i 50.000 euro si possono aprire i micro lotti su tutti i prodotti. Per quanto riguarda appunto la nostra tipologia di prodotti, si possono vedere velocemente da sempre questa pagina tipologia di conto, si può entrare nello specifico, solamente volevo farvi vedere la parte relativa agli spread. Vi faccio vedere la parte relativa agli spread perché come dicevate prima, la PTE parte da lontano e io onestamente parlando ero entrato in contatto precedentemente, a parte Fabrizio che è il nostro cliente da tempo, però ero entrato in contatto direttamente con Emiliano Monza che sostanzialmente aveva così lottato diciamo in termini simpatici per strappare al broker le condizioni migliori per i suoi clienti, per quelli che erano, che sono tutt'oggi i suoi clienti. Quindi sostanzialmente lui è riuscito a strappare uno sconto importante sul conto pro che è poi quello che rientra nella nostra promozione, quindi rimetto scusate la pagina precedente e quindi la nostra promozione è relativa al conto pro però con un deposito minimo richiesto di 2500 euro. Tra le varie dicevo tipologie di conto e sui dettagli dei diversi prodotti mi faceva piacere farvi vedere come sono strutturati velocemente perché poi ne voglio rubare troppo tempo alla PTE. Ovviamente abbiamo la parte FX, ogni strumento ha le sue caratteristiche con spread minimo, il valore del tick eccetera eccetera con anche lo swap, posizioni lunghe e corte, ma che si possono cambiare per tipologia di conto quindi già premium fino arrivare al pro ecco che le condizioni ovviamente qui stiamo parlando di valore canadese franco quindi è abbastanza largo però ecco che le condizioni vanno a migliorare strada facendo. Si possono ovviamente vedere anche tutti gli altri nostri prodotti, nello specifico qui farei vedere velocemente la nostra piattaforma, la piattaforma aumentata del classica con tutti quelli che sono i nostri prodotti ovviamente divisi per colore. La cosa interessante che so che interessa i clienti della PTE 2.0 è anche l'operatività sul DAX. Allora il DAX, il nostro DAX, nello specifico il nostro nuovo DAX è questo prodotto con il puntino finale che io ho voluto mettere qua in alto per far vedere che in questo momento sta operando normalmente diciamo comunque con un tick di spread però insomma se seguite l'operatività di Fabrizio anche lui stesso potrà confermare soprattutto nel corso della mattinata questo è un prodotto che scende anche sotto il tick tra 0.8 e 0.9 o addirittura in vari casi anche 0.7. La cosa importante è che il nostro DAX precedente che è questo prodotto senza puntino finale ha uno spread quindi senza i decimali che varia tra 1 e 2 tick mentre questo attuale che in questo momento si è anche allargato in maniera importante comunque varia con il decimale quindi se passa 1, 1 e 2, 1, 1 e 3 e via dicendo. Qui si possono vedere quelli che sono gli spread per esempio sull'euro dollaro si aggira su 0.4 e 0.2 e quello è quello che è il momento di volatilità e anche un ottimo spread che offriamo su gold e silver. Scorrendo verso il basso si trovano anche tutti i nostri altri prodotti fino ad arrivare come detto alla parte azionaria quindi in questo caso le azioni italiane le azioni tedesche e un'ampia selezione delle azioni americane. Qui mi ricollego un attimo al discorso che avevo fatto precedentemente sulla metatrader 5 per il semplice fatto che l'ampiamento alla metatrader 5 ci permetterà sia di introdurre molte moltissime nuove azioni ma soprattutto anche il fatto di poter non più operare sull'azionario ragionando in lotti. Questo perché la metatrader 4 nasce per il mercato FX e quindi sostanzialmente bisogna un attimo adeguare diciamo così il linguaggio sul mercato azionario. Io infatti consiglio sempre questa è una piattaforma demo che ovviamente riflette esattamente quelle che sono le caratteristiche della piattaforma reale, questa è una piattaforma demo pro. Comunque io consiglio sempre di seguire anche qui è fatto molto bene sulla parte azioni per tipologie di conto per mercato quelle che sono soprattutto questa parte volume minimo massimo c'è qui sono richiesti per per aprire per esempio autogrill o azimuth 10 che ovviamente non sono 10 lotti ma è il minimo operabile tradabile per ecco se il mercato adesso non è stato chiuso ok quindi andiamo sull'America o sulla Germania ecco è il minimo tradabile per per il mercato azionario. Quindi queste sono le condizioni presenti sul sul nostro sito per la parte commissionale vedete che sul sulle azionari Italia abbiamo una commissione dello 004 per cento mentre sulla azione e così anche per la parte tedesca mentre sull'azionario americano sono due centesimi per CFD quindi sostanzialmente in questo caso abbiamo aperto eh 1 0 40. Mi richiedono lo spread sul Nasdaq vediamo subito in questo momento quanto batte partiamo dall'alto. Allora innanzitutto al Nasdaq col puntino questo è lo spread attuale. non so Fabrizio se ci sono altre domande. Mi senti? Sì Marco sì sì anch'io vedo quanto sì quanto è lo spread sul Nasdaq per il resto ok. Ok volevo capire se era un momento di volatilità però mi sembra mi sembra di no. ecco queste le caratteristiche del Nasdaq in questo momento lo spread dovrebbe essere decisamente più basso quindi niente in questo momento lo spread è molto ah no ma sto scusatemi il mercato in questo momento è chiuso certo questa è la spiegazione come vedete questo è lo spread il zero stocks sì Marco scusa se ti interrompo dimmi ma prima quando hai guardato il DAX lo spread comunque era di un punto eh non era non si era allargato controllato subito sul conto reale mi sembrava strano infatti un punto real punto real era un punto quindi confermo che allora diciamo eh diciamo che come detto la nostra piattaforma demo vedi la nostra piattaforma demo eh riflette esattamente le condizioni del conto reale eh quindi per esempio si può aprire un micro lotto come avevamo detto eh ma soprattutto nella parte commissionale nella parte di swap nella parte ovviamente anche di spread questi sono sono comunque spread reali e ovvio che in momenti di volatilità insomma momenti di diciamo così di alta frequenza eh noi diamo comunque sempre la precedenza ai conti reali quindi adesso non so spiegare come mai quel momento si era visto il 3.20 abbastanza strano però questo è lo spread reale sul DAX comunque come dicevo per quanto riguarda la promozione eh legata a STO con la PTE Allora sostanzialmente l'apertura del conto PRO con la possibilità di un minimo deposito di 2500 euro al posto sostanzialmente che 10.000 e questa è una condizione che non scade, non ha scadenza. Noi offriamo anche volendo il WPS gratuito con deposito minimo in realtà di 2000 euro, quindi dal conto sostanzialmente premium in su, un WPS che funziona molto bene, che ha stabilità, ecco vedete qui, 2500 euro con aggiunta del WPS gratuito. Ok, nel caso vogliate approfondire, adesso ripeto non volevo, il nostro sito poi è abbastanza ricco soprattutto sulla parte del centro educativo, noi puntiamo tanto su formazione, ecco perché poi ci siamo appoggiati anche alla PTE e assistenza, quindi avendo l'ufficio ovviamente a Milano, in Italia diciamo così, possiamo dare assistenza diretta, ci si può anche conoscere volendo, siamo qui vicino al Duomo, in via Largal 2. Però puntiamo tanto al di là della questione dei prodotti ovviamente e degli spread su quello che può essere un'assistenza per qualsiasi cosa legata all'operatività e o alla nostra piattaforma. Quindi come sapete gli spread sono variabili, gli spread si possono e si devono allargare in determinati momenti di mercato. In caso in cui uno spread si dovesse allargare più del dovuto e questo allargamento dovesse per esempio toccare uno stop loss, quello che offriamo noi come supporto e assistenza, il semplice fatto di mandarci un'email anche a me direttamente con i dettagli del conto, il numero dell'ordine, e noi andiamo a fare un veloce controllo tick by tick, ovviamente guardando anche altre piattaforme come Bloomberg o Reuters per esattamente dare l'esatta corrispondenza di quello che è stato il prezzo battuto in quel momento. Se lo spread si fosse allargato senza motivo, ovviamente non a ridosso di un dato macroeconomico o del rollover, però insomma se ci fosse, dovesse trovare una situazione di allargamento eccessivo, rifondiamo anche la parte eccedente sul conto. Quindi non succede spesso, però se dovesse succedere, dico sempre che sono importanti secondo me questo genere di assistenze più che lo spread a zero o la commissione risicata. Noi diamo supporto diretto, questo volevo sottolineare. Ok, grazie. Sì, la nostra piattaforma è, no stavo leggendo, scusate le domande, la nostra piattaforma è assolutamente aperta, non ci sono limitazioni di nessun genere, anzi, non ci sono limitazioni di sorta. E dicevo buono anche il discorso del WPS gratuito proprio per chi ha DIA da far girare. Ok, riprenderei la, scusa Marco la parola, la passerei a, andiamo sull'operatività, visto l'ora, e passiamo alla parola a Walter Perfetti che ci presenterà insomma l'operatività sul DAX secondo il metodo PTE 2.0. Sì, Fabrizio mi dai? Eh, te, sì. Ok. Bene, buonasera a tutti, sono Walter Perfetti e faccio parte del team PTE 2.0, come già vi ha anticipato Andrea Manzini. Eh, sono onorato di essere qua questa sera per la prima volta, un po' dall'altra parte della barricata, a presentare alcune fillole di, eh, cultura finanziaria e di operatività sul DAX. Perché il DAX, eh, in particolare perché mi sono appassionato a questo indice fin da quando ho iniziato il percorso con Emiliano Monza, eh, eh, la scuola PTE. Quindi passiamo subito a vedere un po' quello che è il mio programma per stasera, in particolare parleremo di cosa è il DAX e di come tradarlo, parleremo di cosa lo influenza, ed infine vi farò, eh, una, diciamo, una, mh, eh, carrellata degli spunti operativi che io uso per operare sull'indice. Prima di partire però devo mettervi a conoscenza quindi del disclaimer, attenzione perché il trading comporta un elevato grado di rischio e può provocare perdite anche superiori al capitale inizialmente impegnato. Questo con ESMA non più, quindi il massimo rischio che corriamo è quello di perdere tutto il capitale che abbiamo sul conto. Il materiale e le informazioni contenute in questa presentazione non costituiscono in alcun modo un servizio di consulenza finanziaria né tantomeno vogliano sollecitarvi a fare operazioni che dipendano da quello che io vi dirò in questa occasione. Quindi tutte le operazioni e gli spunti descritti si intendono eseguiti in modalità demo a scopo didattico e vengono riportate come spunti di riflessione. Pertanto noi ci definiamo da ogni responsabilità per eventuali conseguenze che dovessero derivare da qualsiasi operatività fondata sui contenuti di questa presentazione. Bene, ci sono due modi di fare trading. Il trading della speranza, che vi dico per esperienze passate e per racconti di vari trader che abbiamo conosciuto in questi anni, il trading della speranza ci fa sentire in questo modo. Cioè siamo attaccati a una speranza e lo stato d'animo è sempre uno stato d'animo di sofferenza e di ansia. Oppure esiste il trading consapevole, che però ha tra virgolette un difetto, prevede una formazione. Ma ci fa sentire così, rilassati e tranquilli. Quindi io voglio farvi velocemente una carrellata di che cos'è il DAX 30, perché a partire da me quando mi sono affacciato... Fabri? Scusate eh? Fabri? Vabbè, diciamo il DAX quando io mi ci sono affacciato mi sono posto sinceramente poco il problema di che cosa fosse. Ed è per questo che vorrei parlarvene un attimo. Il Deutsche Aktien Indes 30 è il segmento della borsa di Francoforte. Il DAX in pratica contiene 30 titoli tedeschi, che sono quelli con maggiore capitalizzazione e liquidità. Ed è il più importante indice azionario tedesco. In origine si chiamava Deutsche Aktien Indes 30, che tradotto significa indice delle azioni tedesche. Andiamo a conoscerlo un pochino meglio. I 30 titoli che lo compongono vengono selezionati sia tra quelli appartenenti ai settori tradizionali, sia quelli tecnologici. E la cosa importante da dire è che vengono selezionati in base a criteri di capitalizzazione e liquidità e sono quotati sul prime standard della borsa di Francoforte. È stato introdotto nel 1988, come dicevamo costituisce il principale indice azionario della borsa tedesca e la cosa importante da notare è che i volumi di scambio effettuati sui titoli che lo compongono equivalgono addirittura all'80% del totale. Questi titoli vengono selezionati in base ai rigorosi criteri, quindi ad esempio occorre che le società abbiano la propria sedie nel territorio tedesco, che siano quotate da almeno tre anni e che scambino almeno un determinato volume nell'ultimo anno. Guardiamo il calcolo del valore dell'indice. Inizialmente veniva calcolato tutti i giorni il valore del DAX e dal gennaio 2005 invece viene fatto in tempo reale. Quindi ogni secondo è calcolato ed è risultato appunto di una serie di operazioni che permette di operare dalle 9 del mattino fino alle 17.30 del pomeriggio. Parliamo un attimo del future, perché il future praticamente è il derivato dell'indice DAX, cioè praticamente il future si chiama derivato in quanto deriva dal DAX 30. È importante quindi sapere che il DAX 30 in questo caso si chiama sottostante e il DAX future si chiama derivato. Vediamo quanto vale un contratto. Siccome sul DAX abbiamo una variazione minima che è detta TIC, un punto di DAX vale 25 euro, mentre la variazione minima equivale a metà punto, quindi un TIC vale 12,5 euro. Può essere negoziato dalle 8 alle 22, cioè da considerare che proprio dalle 17.30 in poi il valore presso a riferimento è proprio quello del DAX future. Per fare un esempio, un contratto di DAX, il valore ad oggi è 11.237, 25 per 11.237 vuol dire che un contratto di DAX vale 280.925 euro. Come tradarlo? Ora vi chiederete come faccio a tradare il DAX con questi importi. ci vengono in questo caso a dare una mano ai CFD, i contratti per differenza. Questi contratti per differenza ci vengono messi a disposizione dai broker come STO, come ad esempio STO. Il rapporto in questo caso è diretto tra il trader e il broker. Quali sono i vantaggi? Non si acquisisce il possesso dei titoli, non vi sono pratiche burocratiche, abbiamo una leva finanziaria che con il nuovo regolamento ESMA è 1 a 20, ma ci permette di comprare comunque un contratto di DAX con soli 14.046 euro sul conto, cosa che non sarebbe possibile andando direttamente sulla borsa tedesca a comprare un contratto. Si può guadagnare sia comprando che vendendo ed è molto veloce questo tipo di prodotto nell'esecuzione. Una cosa importante che magari spesso non sentiamo dire nei webinar è che dobbiamo stare attenti a due indicatori economici, in quanto il DAX è influenzato principalmente dallo ZEV, che è l'economic sentiment, è elaborato da un istituto tedesco e praticamente viene ottenuto da un'indagine condotta presso circa 350 investitori istituzionali e analisti tedeschi. Questo è un dato importantissimo in quanto mensilmente viene rilasciato e crea volatilità. Perché vi dico questo? Perché magari se avete un'operazione aperta con un time frame abbastanza piccolo e per piccolo intendo 5-15 minuti, conviene stare molto attenti perché questi dati potrebbero influenzare sensibilmente la volatilità e farvi magari andare a una posizione che è in guadagno o magari una posizione che avete aperto o in forte guadagno se va nella direzione vostra, ma anche in forte perdita. Un altro dato economico è l'IFO. In questo caso, a differenza dello ZEV, vengono intervistate 7000 aziende e sulla base dei dati raccolti da queste 7000 aziende vengono dati delle indici sulla situazione attuale e sulle aspettative. E questo dato viene pubblicato la quarta settimana del mese di riferimento. Andiamo a vedere quali sono gli strumenti operativi sul DAX. Gli strumenti di supporto decisionale che io consiglio di usare sul DAX nella strategia PTE sono i supporti e le resistenze. I livelli di Fibonacci che nel caso del metodo PTE servono per settare i take profit e poi il nostro algoritmo decisionale PTE 2.0 H-A-Extreme. In generale, io direi che possiamo usare per un aiuto decisionale le bande di Bollinger, lo stocastico, le trendline, Fibonacci per i livelli di volatilità e Fibonacci in presenza di gap di cui vi farò un accenno fra poco. In base a quanti elementi presenti di quelli di cui vi parlavo prima, io posso decidere la size con cui entrare a mercato. Attenzione però, perché una cosa fondamentale da tenere sempre presente è il money management e il risk reward. Quindi questi sono due pilastri dei quali non ci dobbiamo mai dimenticare. I più importanti strumenti sono i supporti e le resistenze testate dal mercato, i livelli di volatilità che noi andiamo a rilevare con Fibonacci, l'osservazione della candela ai che nasci più l'H-Extreme che è il nostro supporto decisionale, la valutazione del S&P 500. Metto in nero perché qui, diciamo, in questo caso io do meno importanza a questi fattori, quelli in rosso sono i più importanti, le trend line, lo stocastico e in ultimo le bande di Bollinger. Vi faccio un piccolo accenno dei livelli di volatilità. Questo è un grafico del DAXE dove io sono andato a misurare con i livelli di Fibonacci l'escursione massima avvenuta precedentemente al momento in cui ho osservato il grafico. Qui possiamo vedere che tracciando Fibonacci otteniamo tutti questi livelli che vediamo qua segnati che ci indicano una zona sell che è compresa tra il livello 100 e il livello 78,6 e una zona buy che è compresa tra il livello 0 e il livello 23,6. Che cosa ci dice questo? Questo ci dice i punti in cui possiamo ipotizzare delle entrate a mercato. Quello che sta nel mezzo evidenziato in grigio io l'ho definita una zona neutra di fronte alla quale dobbiamo sempre stare attenti perché il mercato potrebbe andare in una direzione o nell'altra. Ovviamente da questo grafico è evidente che quando siamo arrivati alla zona che io ho indicato come sell una volta superato il livello 100 si parla di breakout e a quel punto usciti da questa fascia noi vediamo che il mercato vola verso l'alto ed una volta usciti da questa fascia la cosa importante è prendere in considerazione le estensioni di Fibonacci cioè in questo caso il livello 161,8 ma ce ne sono altri anche successivi dove il mercato può arrivare quando esce da certi parametri. Andiamo sulla MT4 di Sto a vedere un esempio. Allora questa è la MT4 di Sto sulla quale io opero e come potete vedere tengo settati su questa piattaforma quattro grafici il DAX30 a 15 minuti con le candele canasci il DAX30 a 15 minuti con le candele giapponesi il DAX30 a 5 minuti con le candele che nasci e l'S&P500 con candele che nasci a 15 minuti. Questo perché praticamente ora io vi ingrandisco uno alla volta questi grafici prendo ad esempio la giornata di ieri che è stata una giornata molto volatile dove ci sono stati dei veri e propri segni di allarme che ci indicavano un'entrata al mercato short. Vi faccio in questo caso notare che in questo punto preciso avevamo un'apertura e una chiusura di queste candele sotto il livello 100. Il livello 100 in pratica mi derivava esclusivamente come vi avevo fatto vedere nell'esempio precedente dall'aver misurato l'escursione che c'era stata precedentemente. In questo caso con apertura e chiusura sotto il livello 100 avevamo comunque un sentore che il mercato potesse andare short. Avevamo già anche il nostro supporto decisionale che ci indicava la freccia verso il basso e anche una trend line che a un certo punto viene violata. quindi tutti questi fattori messi insieme ci davano già un segnale di entrata a mercato. Parlando in particolare del metodo PTE avevamo dei segnali piuttosto evidenti che erano questa resistenza che era stata testata precedentemente ed andiamo a vedere in vari punti la vediamo nel dettaglio eccoli qua che era già stata testata una volta perfettamente in passato un'altra volta non perfettamente ma comunque quasi perfettamente in passato un'altra volta ancora e poi se non sbaglio abbiamo anche in questo caso un test perfetto della solita della solita resistenza. quindi tornando a questo esempio noi avevamo dei massimi assoluti di giornata anche perché c'era stato un grosso gap rialzista in partenza qui dalle candele che nasci non lo vediamo però diciamo che qui eravamo sui massimi assoluti eravamo di fronte ad una resistenza e nel metodo PTE come abbiamo detto precedentemente sono due fattori fondamentali supporti e resistenze poi vediamo anche massimi relativi ed assoluti in questo caso massimi assoluti avevamo il nostro supporto decisionale che ci diceva di entrare a mercato e avevamo anche delle candele che nasci come vi dicevo di notare prima che ci indicavano un'indecisione del mercato le cosiddette candele d'oggi come vediamo addirittura questa apre e chiude quasi allo stesso livello questo ci deve mettere in allarme ma vi faccio notare anche un'altra cosa importante in questo caso abbiamo qui in basso lo stocastico che incrocia in zona di ipercomprato per cui incrociando in zona di ipercomprato mi dice anche questo attenzione perché il mercato potrebbe scendere se mettiamo insieme tutte le cose che abbiamo detto noi possiamo sentirci piuttosto confident nell'entrare a mercato con una size sempre nel rispetto del risk reward del money management diciamo massima che ci permette di portare un guadagno interessante a casa già che siamo su questo grafico vi faccio vedere un secondo momento della giornata che ci indica un ingresso a mercato piuttosto evidente in questo punto siamo vicini di nuovo a in questo caso ad un supporto il quale viene violato viene violato lo stocastico di nuovo ci indica in zona di ipercomprato un incrocio delle due medie pertanto anche in questo punto potevamo entrare a mercato vi volevo anche far notare in questo caso che sono andato a misurare con Fibonacci questo trend e rialzista perché nel nostro metodo come mi dicevo all'inizio andiamo a settare i take profit proprio con il Fibonacci in questo caso ieri giornata splendida che ci ha permesso di guadagnare molti punti indice vediamo da questi rettangolini che pian piano è andato a superare il 23,6 il 38,2 il 50 anche se non è un vero e proprio livello di Fibonacci il 61,8 che è un livello tra i più interessanti ed importanti di Fibonacci il quale una volta violato porta al mercato addirittura al 100% di guadagno e cioè ad assorbire completamente il movimento precedente quindi qui diciamo vediamo un pochino il zunto di tutti gli elementi di cui vi parlavo in quanto vi ho parlato di Fibonacci e l'abbiamo messo diciamo in moto per i take profit di supporti e resistenze che in questo caso ci sono venute ad aiutare nelle nostre decisioni di livelli di volatilità visti precedentemente il nostro HE stream il nostro supporto decisionale e fondamentale la candela doji con i massimi assoluti quindi questo diciamo è un ulteriore spunto di operatività volevo anche farvi notare una cosa molto molto interessante che è quella che mette in fortissima relazione l'S&P con il DAX ora riduco un attimo questo grafico altrimenti non vediamo niente vediamo un attimino ok volevo farvi notare alle 16 alle 16 ecco praticamente ieri alle 16 avevamo e lo vedete evidentemente due movimenti pressoché identici del mercato e perché guardiamo l'S&P perché spesso l'S&P anticipa movimenti del DAX direi quasi sempre non da prendere come cosa assoluta ma da prendere come un dato fondamentale da osservare in pratica ci conforta di una nostra decisione operativa in questo caso io mi sono andato a tirare una trend line in questo punto dove il mercato qui mi indica sempre sempre in un time frame a 15 minuti una lieve salita me la va a violare ho segnato qui una sorta di price action cioè di livello di prezzo compresa fra due supporti e resistenze che avevo tracciato precedentemente aspetto la rottura di questo livello di volatilità aspetto i segnali sul mio grafico principale ed ecco che qui in questo punto nel solito momento ho due segnali operativi coerenti che confluiscono in una decisione di entrata sell a mercato inoltre abbiamo ancora una volta il nostro stocastico settato a 10 3 6 se poi volete sapere qualcosa di più potete scrivere a me o a Fabrizio per ulteriori diciamo spiegazioni sul settaggio che mi fa ancora una volta sentire fiducioso nel momento di entrata a mercato quindi io vi ho detto un pochino velocemente tutte le cose che vi consiglio di osservare quando vogliamo operare sul DAX il DAX è molto volatile ed è per questo che è un è un un indice a cui dobbiamo stare molto molto attenti però è un indice che se trattato con prudenza ci può dare delle grosse soddisfazioni in termine di ritorno come minimo 1 a 2 ma anche 1 a 3 a volte 1 a 4 voi considerate che in questo caso in questa entrata a mercato io vado a piazzare il take profit per star tranquillo 10 punti 15 punti sopra la mia resistenza quindi all'incirca lo vado a piazzare non so da qui un 39 40 punti sopra diciamo il mio livello di ingresso per andarmi a prendere lo stop lo stop lo scusate se ho detto take profit lo stop lo per andarmi a prendere un guadagno di 300 punti tengo a precisare per onestà in un'entata a mercato di questo genere è difficile che ci manteniamo a mercato fino a questo livello però si potrebbe mettere in atto una strategia di step cioè vale a dire magari quando raggiungiamo un livello interessante come il 61,8 o addirittura un 50% ci può chiudere metà posizione portare lo stop a zero a break even e magari con una piccola size ancora a mercato andarsi a vedere se ci dà ragione in questa ultima discesa come è successo nel caso di ieri voi considerate che questa comunque è un'operazione che come minimo vi fa portare a casa un guadagno pari a 3-4 volte il rischio che andiamo a correre quindi un'operazione perfetta non sempre è così ho preso questo esempio perché mi ha servito per farvi un po' capire tutti quelli che sono gli strumenti operativi che nel tempo e con l'esperienza uso per operare sul DAX e devo dirvi anche con molte soddisfazioni e con un rischio calcolato che mi fa star tranquillo e non agitato come mi è successo i primi anni che facevo questo questo tipo di chiamiamolo lavoro ok io vi volevo ringraziare tutti e per chi mi conosce un bentornato per chi non mi conosce un benvenuto e spero di esservi stato utile qualsiasi domanda potete farla a me o a Fabrizio e e niente alla prossima volta sperando di di rincontrarci grazie mille e Fabrizio passo la parola a te grazie Walter grazie per il tuo contributo molto molto importante sei stato molto chiaro e ti ringraziamo per questo come diceva Walter per qualsiasi comunque diciamo domanda anche alla fine del del webinar info punto pte 2.0 chiocciola gmail punto com saremo felici insomma di rispondere a qualsiasi vostra domanda adesso passo la parola e assegno il ruolo di relatore invece andiamo avanti con il webinar velocemente perché il webinar il titolo del webinar operatività sul dax operatività operatività sul mercato azionario quindi assegno il ruolo di relatore a Laura Laura della bianca buonasera a tutti mi sentite ci sente Fabrizio sì io sento benissimo Laura ti senti forte e chiaro aspetta adesso dovresti avere anche lo schermo sì condividi ok allora questo è un buonasera a tutti innanzitutto e vi parlo dell'operatività a livello di azioni a un'ora quindi del metodo che può essere della PTE intraday innanzitutto volevo dirvi che lo stiamo ancora testando perché infatti se guardate la piattaforma edemo stiamo facendo tutte le prove per vedere effettivamente quali sono gli orari migliori per operare quali sono gli ingressi migliori quali sono le azioni migliori da utilizzare perché magari ci renderemo conto che non tutte saranno così proficue quindi è inutile tenere aperte 50 azioni quando magari con 15 si ha lo stesso guadagno nel metodo che utilizzeremo principalmente si utilizzerà l'algoritmo è difficile entrare a mercato con il metodo PTE vero e proprio delle doji sull'azionario adesso vi faccio vedere un'operazione che ho fatto io dove non ho preso molto profitto e poi ve ne faccio vedere un'altra invece dove ho preso parecchio profitto questa è un'operazione dove vedete la prima frecciolina verde che sarebbe SDFK della German a un'ora io sono entrata a mercato a chiusura di questa candela verde che ha la prima frecciolina dell'algoritmo sono arrivata a come potete vedere quelle in azzurro sono i livelli di Fibonacci invece le linee rosse blu e verdi sono i miei ostacoli cosa ho fatto? entrando ho cominciato a prendere il mio primo profitto del 23,6 di Fibonacci quando sono arrivata al 23,6 di Fibonacci come la regola della PTE che ti dice chiudi metà posizione sposta lo stop a zero perché? perché il profitto non sarà tantissimo ma perlomeno è assicurato ho chiuso metà della posizione la mia operatività è un po' modificata da quella che insegnava Emiliano all'inizio perché lui diceva arrivato al 23,6 chiudi mezza posizione e lascia correre il mercato e poi decidi tu quando chiudi l'operazione invece io l'ho modificato un pochino nel senso che quando arrivo al 38,2 di Fibonacci mi sposto lo stop leggermente sotto al 23,6 in questo caso è andata male tra virgolette perché? perché il mercato è sceso e quindi mi ha preso lo stop però e se l'avessi lasciato aperta sarei arrivato a superare il 61,8 non sempre capita così se calcolate che se al 23,6 fosse ancora sceso sarebbe andato a prendermi lo stop non avrei preso neanche questo minimo di guadagno un'altra operazione che avevo fatto è questa aspettate è questa anche qua sono entrata con il segnale dell'algoritmo su questa candela qui sotto perché era vicina al secondo canale altra cosa che volevo dirvi io il test lo sto ancora facendo con i vecchi parametri dei canali perché voglio testarlo prima così e poi proverò con i nuovi parametri per vedere quale sarà l'operatività migliore quale darà maggiori ingressi e maggiori profitti in questa operazione cosa ho fatto sono entrata sempre a mercato su questa candela ho preso il 23,6 di Fibonacci ho chiuso metà posizione e ho spostato lo stop a zero quando è arrivata al 38,2 qui cosa ho fatto ho spostato lo stop leggermente sotto il 23,6 in questo caso mi è andata non bene di più perché il mercato ha continuato a salire io man mano che raggiungo un livello di Fibonacci sposto lo stop sotto al livello precedente quindi come potete vedere qualche pip sotto non preciso tengo sempre due o tre pip di differenza in questo caso di TIC in questo caso come potete vedere io sono riuscita a superare il 61,8 di Fibonacci quando sono arrivata a questo livello in cima l'algoritmo mi dà un segnale di discesa ho chiuso la mia operazione non sono entrata al contrario perché per quale motivo non sono entrata al contrario perché avendo già preso un bel guadagno su questa operazione ho preferito andare a cercare su altre azioni dei movimenti significativi altre cose che ho fatto ci sono state le operazioni dove invece effettivamente ho preso uno stop vediamo se riesco andare a vederla se me la ricordo mi sembra che era questa no non era questa questa allora ok sì era questa qui l'algoritmo mi dava il segnale in salita io sono entrata ma non è andata subito praticamente scese risalita ma sono nata in stop perché comunque può capitare che ci siano operazioni che non risultano come dovrebbero però sulla maggior parte visto che gli stop comunque si tengono abbastanza ristretti perché io personalmente tengo dal minimo della candela dove c'è il segnale dell'algoritmo mi tengo circa una ventina tra i 10 e i 20 punti Laura scusami in questo caso se c'è un leggero ritardo tra la tua voce e il video quindi nel senso capito quando dici parto da qua quindi se aspetti qualche secondo prima di dare la spiegazione ok scusami di questa quindi la rispiego le altre le avete viste sì ok dopo si è visto sì ok perfetto adesso vedete il mio video su ABVE sì ok Laura ok io ero entrata su questa candela con il segnale dell'algoritmo come potreste vi traccio anche Fibonacci che poi l'avevo cancellato Fibonacci mi andava così quindi io cosa ho fatto ero arrivata al 23.6 purtroppo in quel momento non ero davanti al computer perché perché comunque la alle 5.30 sono con la candela dopo delle 5.30 sono entrata a mercato poi non sono potuta restare davanti al computer cosa ho fatto al 23.6 sia quando è arrivato qua che qua non ho chiuso l'operazione non ho chiuso metà posizione e mi sono presa lo stop qua sotto purtroppo capita anche questo ma come in tutte le operatività calcolate che mettendo lo stop come dicevo io lo metto tra i 10 e i 15 20 punti sotto al minimo della candela che mi dà come segnal d'ingresso l'algoritmo per il momento è così poi man mano con gli studi se ci saranno modifiche verranno comunque dette anche del discorso dello stop se tenerlo un po' più largo piuttosto che più stretto in base a come verrà poi modificata l'operatività anche perché sono tutte prove ancora quelle che io sto facendo sull'orario ecco non lo opero sulle azioni a 15 minuti perché dal mio punto di vista non dà ingressi significativi che possono portare a dei guadagni Fabrizio ti lascio per parlare su quello del discorso dei lì ok ok grazie Laura grazie niente grazie a tutti voi dell'attenzione buonasera ditemi se vedete il mio schermo adesso sì Fabri lo schermo nero con l'icone nero adesso si vede adesso si vede il grafico piattaforma ok sì esatto allora riprendendo il discorso velocemente sull'azionario e sul nostro algoritmo che Laura già ci ha anticipato volevo dire che abbiamo in questi mesi studiato l'operatività su quello che Emiliano Monza ci aveva trasmesso prima di lasciare insomma a noi il timone cioè il fatto che aveva visto sull'azionario una una forte una forte diciamo una forza del nostro algoritmo e del nostro metodo sui trend dell'azionario io in questi mesi ho diciamo approfondito lo studio su quello che è l'operatività come mio diciamo come mio difetto come mio peculiarità sul time frame daily e sul time frame a quattro ore e soprattutto però come ha detto o come ha anticipato Laura prima l'operatività su questo tipo di mercato si si fa esclusivamente con con l'algoritmo più che con il metodo appaiono anche delle doji importanti ma spesso vengono si accompagnano proprio anche alla freccetta del nostro algoritmo in più io ho diciamo fatto uno studio su quello che è il settaggio del dell'H stream ho riportato per fare un grafico più minimalista io sono abbastanza semplice nella mia operatività possibile ho riportato ad un canale ad un canale perché volevo un grafico abbastanza pulito che mi desse dei segnali e quindi operando solo con l'algoritmo dovrei aver avuto chiara il momento dell'ingresso e quindi ho fatto molti studi su quelli che sono i parametri dell'algoritmo stesso e sono venute fuori delle cose veramente interessanti perché se vi faccio vedere una carrellata degli ultimi giorni di eventuale operatività alcune operazioni le ho fatte le vedremo dove abbiamo contrassegnato Fibonacci alcune no ma vedete come l'algoritmo appare siamo fuori dal canale quindi la semplicità dell'essere fuori semplicemente fuori dal canale di un canale l'ingresso con come diceva Laura uno stop sul daily di circa 25 pip sotto alla candela che ci dà il segnale entriamo all'apertura della candela successiva la candela successiva vedete come primo obiettivo se tracciamo Fibonacci da questo trend precedente a quello vediamo che al 23 6 chiaramente non poteva essere un obiettivo però il 38 2 già poteva essere un primo obiettivo e eravamo già rientrati dentro al canale ma come vedete i trend delle azioni per chi ha seguito il metodo in passato sul forex è molto più diciamo potente e si raggiunge spesso la media e qualche volta anche addirittura l'altra estremità del canale con questi settaggi chiaramente come diceva Laura prima non è che sono esenti gli stop ma gli stop vedendo la proporzione del diciamo del guadagno dei movimenti che ci fa fare il diciamo l'algoritmo rispetto ai pochi pip di stop che mettiamo sotto alla candela dell'ingresso spesso volentieri guardate sono dei stop decisamente sopportabili e quindi come vediamo in molti casi il trend è molto ben definito dopo un trend se perdiamo un trend aspettiamo diciamo la candela del nostro indicatore spesso riusciamo a fare delle buonissime operazioni qualche volta ho preso chiaramente dei parametri ho settato dei parametri dell'algoritmo per filtrare i segnali non è che dobbiamo avere per forza chiaramente siamo in un'operatività daily e quindi non ci possiamo aspettare chiaramente moltissimi segnali al giorno ma le azioni sono tante diciamo che io mi sono concentrato poi su quelle americane e come vedete anche qui guardate che tipo di movimenti qui abbiamo anche il metodo abbiamo una candela d'oggi fuori dal canale e guardate dalla freccia quindi volevo fare una carrellata molto veloce ma per dirvi che sono stati fatti dei studi soprattutto sul settaggio del canale e ci stanno dando molte molte soddisfazioni Fabrizio c'è una domanda si te la leo grazie chiede l'azionario è più lineare e meno rumore o sbaglio esatto dicevo prima guardando chi già ci ha seguito nel diciamo nell'operatività sul forex e sugli indici soprattutto sul forex i trend delle azioni quindi l'algoritmo che chiaramente è composto dal canale ma anche dalle candele chi nasce fa sì che sono stato sorpreso anch'io mentre facevo questi test dalla forza del trend che l'azionario che l'azione io ripeto ho operato soprattutto sulle azioni americane dalla forza del trend e dalla rapidità ma anche dal poco rumore come dice Piero proprio dalla nitidezza del movimento anche perché come vediamo spesso con questo settaggio dei parametri del canale se ad un trend definito precedente che vediamo se aspettiamo la freccia successiva del nostro algoritmo nell'inversione fuori dal canale molto spesso fino almeno al canale ci rientriamo e quindi questa è una cosa molto molto diciamo interessante come vedete comunque ecco io volevo far vedere come vedete qui in decisioni si prendono anche dei stop perché non è che stiamo a far vedere qui chiaramente veniva veniva preso uno stop perché però diciamo che mettendo o in questo caso io avrei messo sotto al minimo della candela precedente però siamo sempre intorno ai 40-50 pip contro diciamo dei profitti cioè molto molto più diciamo sostanziosi come vedete io direi che comunque ecco era uno uno spunto ecco per quanto riguarda l'operatività l'algoritmo comunque come dicevo è settato con parametri diverse allora sinceramente mai seguito azioni ma inter sì esatto stavo dicendo che c'era una domanda di Piero che dice sinceramente mai seguito azioni ma in termini di spread di swap come siamo messi l'aveva fatto vedere prima Marco per quanto riguarda diciamo l'operatività sulle azioni qual era nella piattaforma di STO qual erano le commissioni però ecco come consigliava Marco io direi di sentire direttamente e iniziare con un diciamo un conto demo dove testare chiaramente questa situazione e capire che tipo di operatività si può avere perché non mi sembravano grosse grandi nelle commissioni né diciamo lo spread però ecco consiglio sempre di iniziare ad operare come noi abbiamo fatto dei test su un conto demo per quanto riguarda proprio il lottaggio come diceva Marco prima quindi rendersi confidenti per quanto riguarda lo spread lo swap eccetera e poi vedendo come insomma come si sviluppa l'operazione sicuramente potremmo potremmo andare tranquillamente ad operare il reale con con il nostro con il nostro algoritmo allora un'altra domanda sì esatto un ultimo sforzo ancora Yuri chiede ma se prendi uno stop sotto il canale poi si può ritentare perché saremo ancora più in ipervenduto giusto punto interrogativo sì giusto nel senso che chiaramente lo stop è stato preso se ricompare il setup nel senso che per noi il setup in questo caso dopo aver settato l'indicatore in questo modo è la comparsa della freccia quindi se ricompare la freccia e se viene confermata perché diciamo che noi entriamo all'apertura della candela successiva ok chiaramente assunto invece dice con l'azionario c'è il problema del gap all'apertura diciamo che l'indicatore come hai visto aiuta anche in questo perché con le candele e chi nasce comunque certo se il gap c'è vediamo dove ci posiziona chiaramente al momento dell'apertura perché entriamo alla candela successiva lo studio in ogni caso deve almeno dei canali dei livelli di fibonacci per vedere diciamo l'eventuale profitto che si può andare a prendere lo dobbiamo lo dobbiamo sicuramente tracciare e capire da lì qual è il rapporto rischio rendimento comunque avete visto vedendo i trend il rapporto rischio rendimento in questi test cioè siamo siamo di gran lunga a favore passo la parola per diciamo vedete in sovraimpressione l'offerta che già Marco ha prima presentato per quanto riguarda il conto STO per i clienti PTE a condizioni veramente agevolate e passo la parola a Andrea Manzini per quanto riguarda invece l'offerta che la PTE 2.0 fa a chi diciamo a chi ha partecipato a questo webinar e che ci ha ascoltato e ha avuto pazienza fino a questo momento quindi ripasso il ruolo di relatore a Andrea Manzini io intanto vi saluto saluto a tutti e grazie per essere intervenuti e passo la parola per il saluto finale ringrazio Marco Pianezza ringrazio grazie grazie a voi ringrazio Walter e Laura che hanno parlato prima di me ringrazio Andrea a cui passo la parola per il saluto ai finali e saluto tutti e vi ringrazio tutti per l'attenzione benissimo ragazzi siamo quasi in dirittura d'arrivo ovviamente i miei complimenti a tutti voi per aver avuto la pazienza di aspettare fino alla fine e ascoltare per la seconda volta la mia voce allora sono appunto all'offerta finale offerta finale di che cosa voglio fare prima una premessa importante perché mi sembra di poter sottolineare due cose che sono avvenute per chi ci conosceva e per chi non ci conosceva già da prima allora come avete visto i due relatori anzi tre relatori perdon escludendo in questo caso Marco non perché non fosse importante Marco Pianezza in questa fase ma perché lui faceva parte della parte broker io parlo invece dei nostri relatori per quanto riguarda la PTE i nostri tre relatori vi hanno fatto vedere un metodo che forse qualcuno di voi già conosceva ma se avete notato è rispetto al passato un metodo che sta cambiando sta evolvendo cosa vuol dire che sì siamo una scuola di formazione ma siamo anche una scuola di studio cioè comunque questi ragazzi io compreso studiamo cerchiamo di studiare delle soluzioni sempre più performanti per quanto riguarda la nostra offerta perché ovviamente il mercato cambia e cambiando il mercato bisogna anche adeguarsi a questi cambiamenti quindi scuola di formazione sì ma anche studio questo perché lo voglio dire perché ovviamente Fabrizio vi ha parlato così come Walter e così come Laura di canali e di algoritmo ovviamente i canali e l'algoritmo per chi già ripeto ci conosceva sapeva che erano settati in un certo modo ora però avete sentito anche dalle parole di Fabrizio di Laura e di Walter che i settaggi nel tempo sono cambiati perché perché è necessario cambiare nel momento in cui si affrontano altri mercati vedi passare dal forex all'azionario vedi perché magari nello stesso forex i mercati sono cambiati per qualche condizione sono più nervosi meno nervosi e quindi è necessario sempre stare sul pezzo e capire come si può sempre di più migliorare anche l'algoritmo perché vi ho detto questo ve l'ho detto perché ovviamente oggi avete sentito il broker che fa l'azionario e quindi ecco che PTE si è messa con un broker che vi fa l'azionario perché se questo diventa un nuovo progetto una nuova possibilità ecco che siamo andati a cercarci anche qualcuno autorevole e importante come Sto per far sì che ci sia un'offerta anche sull'azionario allo stesso stregua però avete anche visto che la nostra partnership con Sto non si ferma solamente a dirvi ragazzi abbiamo l'azionario andate e avete un buon broker ma abbiamo fatto anche una partnership con loro tale per cui vi permette io voglio ripeterla l'offerta di Sto perché non è la classica offerta vi regala l'expert advisor oppure vi dà una condizione come diceva Marco pianezza magari uno spread leggermente inferiore o zero commissioni qua vi ha diviso per quattro quello che è un ingresso a un conto che non è da tutti perché comunque è un conto più importante rispetto a quello tradizionale come avete visto nella loro offerta quindi qua da 10 mila si passa a 2 mila e 5 vi danno VPN quindi vi danno un po' di roba questo grazie al fatto che c'è una forte partnership con la PTE ovviamente sono onesto è una scusami sono onesto è una promozione che non abbiamo da nessun'altra parte esattamente perfetto Marco grazie della sottolineatura è una vecchia promozione ancora valida assolutamente necessaria grazie mille per la precisazione detto questo grazie a te detto questo ovviamente poi abbiamo parlato di algoritmo ma quindi qua l'algoritmo invece non è più appannaggio di sto ma diventa appannaggio della PTE quindi anche noi abbiamo voluto fare un'offerta legata all'algoritmo perché per chi ancora non ha l'algoritmo avete visto quanto è importante soprattutto in questo nuovo ambito dell'azionario avere quella bellissima freccettina che mi dice vai su vai giù e comunque anche se non nell'azionario ma parliamo anche nel classico concedetemi termine classico forex avere il supporto decisionale e non il suggerimento a entrare attenzione l'algoritmo vi dice c'è una possibilità poi sta a voi studiarla e capirla in base a quella che è tutta la spiegazione del metodo detto questo avere quella cosa lì davanti allo schermo che vi dà un ulteriore sprono a dire sei nella direzione giusta valutala è sicuramente interessante detto questo quindi c'è un'offerta ovviamente sì c'è un'offerta legata a questa serata e a voi che avete partecipato allora intanto la nuova versione dell'algoritmo quella con i settaggi nuovi che avete visto è ovviamente oggetto di questa offerta è ovviamente un algoritmo che non ha un canone quindi non è che adesso avete l'offerta poi tra sei mesi dovete ripagare qualcosa per averlo ancora assolutamente no è vostro e vi rimane come tale e quindi potrete poi anche voi studiarlo eventualmente se volete e settarlo a vostra discrezione eventuali aggiornamenti se ci saranno cioè se lo studio porta a dover risettare ancora i parametri oppure perché si va a affrontare altri mercati ancora ecco che comunque questi sono compresi avrebbe un costo di 499 euro iva inclusa ovviamente voi siete partecipanti a questo webinar avete avuto la pazienza di ascoltare credo comunque gli interventi dei colleghi assolutamente più che interessanti ecco che per questa possibilità che avete appunto frequentato avete la possibilità di avere l'algoritmo a 249 euro ovviamente è legato al fatto che voi dopo siate contenti anche di aprire quel conto 2.500 euro invece che 10.000 fatto con il partner store quindi la combinazione delle due cose vi porta a avere l'algoritmo al 50% di sconto quindi vi sparmiate 250 euro per avere quel canale quelle frecce che vi diranno in che direzione andare eventualmente e con che tipo di studio affrontare uno studio più leggero perché avete appunto una conferma della vostra idea della vostra intuizione legata al metodo ora ovviamente abbiamo finito non vi porto via ulteriore tempo come abbiamo detto c'è questa partnership avete qua info.pte2.0 chioccia la gmail.com per qualsiasi informazione richieste come dicevano prima i colleghi che sono intervenuti magari anche qualche cosa che volete approfondire su quanto avete visto questa sera dal punto di vista teorico del metodo ecco che avete la nostra mail abbiamo una pagina facebook pte2.0 ma cosa ancora più importante qua ci tengo ve lo dico adesso così poi dopo non ci sono fraintendimenti questa registrazione di questa serata di questo webinar verrà postata nel nostro canale youtube pro trading experience 2.0 lì non troverete altre pillole fatte dai nostri vari diciamo colleghi con varie tematiche e li potrete accedere a quelle che sono tutte le registrazioni fatte finora più più importanti ovviamente sia su facebook che sul youtube avrete anche poi le informative legate alla nostra attività cosa stiamo facendo cosa faremo nel futuro quindi a questo punto non mi resta dal mio punto di vista che salutarvi tutti augurarvi una buona serata e avere occasione magari di incontrarsi in altri webinar oppure perché no magari in qualche evento live che sicuramente la pte creerà nel nuovo anno sicuramente quindi vi ringrazio ancora buona serata e a presto a presto a presto